L'ultima riunione si è svolta ieri sera, anche Gesso inizierà presto il porta a porta della differenziata. C'è la data ufficiale lunedì dove anche i residenti del villaggio collinare, come stanno facendo da settimane gli abitanti di Salice, inizieranno a raccogliere carta, plastica, alluminio, vetro e umido, secondo i giorni segnalati nei contenitori consegnati dalla messina in ambiente. I cassonetti dei solidi urbani dovranno sparire a Gesso per ridurre i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dell'immondizia in tutta la città. E da lunedì partirà la differenziata porta a porta anche in via Lago Grande a Gansirri, nel tratto compreso tra via Paolo Arena e la caserma dei Carabinieri. Sono comprese anche le vie attigue. L'ampliamento del servizio è stato concordato con messina in ambiente su richiesta del presidente del sesto quartiere, Orazio Laganà, per soddisfare, come sottolineato dal Laganà, le esigenze dei residenti e completare, dal punto di vista igienico-ambientale, il percorso già intrapreso nel villaggio nell'aprile 2015.